Appuntamento speciale, quello del prossimo fine settimana, al Teatro Comunale di Sassari. Per la prima volta, infatti, i Carmina Burana di Karlorf entrano nella stagione lirica curata dall'ente concerti Maria Lisa De Carolis. Il capolavoro del compositore tedesco è stato eseguito per l'ultima volta in città al Teatro Verdi nel 1992. L'evento sarà presentato nella biblioteca comunale di Piazzatola Sassari venerdì 16 novembre alle ore 11 dallo storico Antonello Mattone, vicepresidente dell'ente concerti, accompagnato dalla musicologa Paola Cossu, che illustrerà la partitura dei Carmina. Il concerto è in cartellone per sabato 17 novembre alle 20.30 e sabato 18 novembre alle 16.30. L'anteprima riservata agli studenti è prevista per sabato mattina alle ore 11.00. A dirigere l'orchestra è il coro dell'ente, lo spagnolo Jordi Bernasser, dal 2015 Resident Conductor alla San Francisco Opera. Il coro è quello dell'ente concerti, preparato da Antonio Costa, che conta 75 elementi, a cui si aggiungono le 30 giovanissime voci bianche istruite da Salvatore Rizzo. I solisti saranno il soprano Alexandra Kubas-Kruck, riduce dal trionfone Rigoletto Sassarese, il baritono Fabio Previati, già ottimo Taddeo nell'Italiana in Algeria e il controtenore sardo Ettore Agati, uno dei più interessanti giovani del territorio.